Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive anche oggi cerchiamo di fare una trasmissione divulgativa diciamo così quindi non operativa su determinanti lavori che facciamo ogni tanto inframmezziamo questi video di modifiche sulle auto con qualche cosa di un più di da scalico di divulgativo oggi parlarei appunto di quelli che sono le differenze o la burocrazia che purtroppo voi tutti conoscete in italia credo che l'italia sia uno dei paesi più burocratizzati al mondo e questo veramente male demico che crea sempre dei problemi dal mio punto di vista irrisolvibile perché ci sono sei generazioni che la pensano in maniera diversa per risolvere un problema che hanno costruito i nostri politici in 70 anni di repubblica detto questo purtroppo ci troviamo in questa situazione per cui qualunque cosa da noi è difficile più complicata e diversa rispetto a paesi più snelli paesi più evoluti che non hanno costruito questa burocrazia balzello per balzello creando un elefante quasi inamovibile parlando del settore auto e del settore elaborazione perché quello che a me interessa interessa sostanzialmente ai nostri utenti il parallelismo viene abbastanza facile per cui prendiamo un paese come la germania dove c'è una normativa e un ente che certifica che il tv che certifica tutto quello che sono i componenti non originali che possono essere montati sulle vetture per cui tutti i produttori di componenti chiamiamoli sportivi tuning chiamiamoli come vogliamo hanno l'obbligo se vogliono vendere i loro prodotti ovviamente hanno l'obbligo di farle certificare da questo ente che appunto tecnicamente li analizza verifica che siano dei componenti che abbiano che abbiano che non vadano a come dire compromettere la sicurezza della vettura una volta certificati non c'è bisogno di avere particolari o di fare particolari documenti o quant'altro e se si viene fermati dagli utenti del loro della polizia piuttosto che da chi per esso ovviamente controlleranno che quel componente ha l'approvazione tv e il non viene fatta nessuna contestazione quindi un meccanismo molto semplice direi perfetto che crea un indotto che crea un mercato che in italia purtroppo lo dico contro lo dico non tanto per quello che è il mio interesse io sono 35 anni che faccio questo lavoro e nel bene o nel male abbiamo sempre fatto tutto per in italia vietano tutto per alla fine la gente che cosa fa per ripicca fai tutto quello che ti vietano perché da noi è veramente cioè siamo peggio della svizzera o di altri paesi però sei sempre a rischio sei sempre in una situazione dove vedo non vedo sono on the border con la legalità sarebbe molto meglio fare una legge in maniera più semplice che aiuti anche l'economia perché comunque tutto quello che sono l'indotto dell'industria che producono questo tipo di accessori coloro che lavorano in questo in questo settore creano l'indotto è un'economia e danno una mano anche al pil del paese quindi non è che siamo qui solo per divertimento per arricchimento personale ma se un'azienda lavora come la mia lavora paga le tasse ed è beneficia tutta la comunità se tu crei balzelli uno dietro l'altro chiaramente crei talmente tante difficoltà che riduci il numero di aziende che producono questi materiali e che poi li montano detto questo in italia la situazione è un po' kafkiana nel senso che teoricamente anzi no in pratica è la motorizzazione che dovrebbe omologare le varie parti la motorizzazione è un ente statale come tutti gli enti statali coloro che ci lavorano all'interno non me ne vogliano se qualche utente dei nostri è un dipendente della motorizzazione non hanno una grossa voglia di lavorare parliamoci proprio molto chiaramente non sono propensi a non sono proattivi diciamola in questa maniera poi come tutti i dipendenti statali diciamo non fanno un passettino in più per cercare di facilitare quello che è l'utente finale tanto loro stipendio ce l'hanno le loro ferie sono pagate del resto che gli frega detto questo prendiamo un caso parliamo non so del discorso dei cerchi anche perché qua un cerchio quindi descriviamo un caso che teoricamente doveva facilitare il montaggio di componenti aftermarket però poi con la parte burocratica rimane sempre una parte di difficoltà per chiudere il cerchio allora da quattro a cinque anni a questa parte è stata fatta una norma per cui non è più necessario chiedere nulla osta alla casa costruttrice per montare dei cerchi delle gomme che non sono riportate sulla sulla parte sulla terza pagina del libretto della della vettura ma coloro che producono i cerchi si assumono loro la responsabilità e producono e omologano loro in motorizzazione il cerchio x in questo caso è un cerchio dello z che noi domani andremo a montare nessuna un alfa romeo giulietta di un cliente che è stato omologato in maniera specifica per quella macchina quindi col certificato di omologazione lo z certifica che questo cerchio con l'omologazione nad il modello di cerchio sparco 7 e mezzo per 17 può essere montato su questo tipo di vettura quindi il studio tecnico e il la solidità del cerchio è stata garantita dal produttore o z in funzione dei carichi sugli assi anteriori e posteriori quindi diciamo che al cliente domani potremmo adesso lui del 17 ce l'ha già montato sul livello però poteva tranquillamente montare un mi sembra un 18 e forse anche un 19 che non erano riportati sul libretto in questo caso diciamo in questo caso è facile perché ha già la misura sul libretto quindi cambia solo l'estetica del cerchio e grossi problemi non ce ne sono prendiamo smontiamo le gomme dei cerchi che ha adesso le montiamo su questo cerchio quindi problemi non ce ne sono nel momento in cui uno monta un cerchio omologato appunto di una pezzatura diversa tipo appunto un 18 che non è riportato sul libretto o anche 19 e anche oltre la procedura è che noi appunto come rivenditori forniamo al cliente il certificato di omologazione in originale poi o noi o il gommista al quale si rivolgerà il cliente stilerà un documento di corretto montaggio mettendo sostanzialmente quello che è il suo codice identificativo che certifica il fatto che lui è un un professionista di quel settore per cui non tutti possono chiaramente produrre questo documento solo i gommisti professionisti che hanno la certificazione diciamo in camera di commercio possono consegnare questo documento dopodiché questo documento questi due documenti per completare il cerchio come dicevo prima dovrebbe essere presi dal cliente portati o in motorizzazione o anche tramite un'agenzia di pratiche auto che deve recepirli e far riportare sul libretto la misura alternativa solo in questo modo la procedura burocratica è completa però io quello che spesso dico è benissimo fai riportare sul libretto questa misura d'accordo però il cerchio omologato basterebbe anche solo l'omologazione se io l'omologazione in originale la tengo dentro nei documenti della macchina uno mi deve spiegare che cosa cambia a livello pratico non è che magicamente il cerchio sia auto omologa perché riporto la misura sul libretto questa è la parte che dà più fastidio cioè non c'è una ragione logica per la quale io devo fare anche quest'ulteriore passo che mi fa perdere tempo mi fa perdere comunque devo pagare le soldi all'agenzia non sono tanti soldi comunque devo avere un ulteriore sborso economico per avere un qualche cosa che è unicamente finalizzato a chiudere un discorso burocratico questo per dire una banalità che doveva teoricamente semplificare la situazione poi nella pratica l'ha semplificata fino a un certo punto però un altro da lì in avanti rimane sempre una burocrazia bisogna sempre scontrarsi con una burocrazia che purtroppo è quella in italia noi siamo burocratizzati da quando nasciamo a quando moriamo non ci sono altre alternative quindi se imparassimo come ho detto all'inizio dai paesi un pochino più smart un pochino più come dire svegli in questo senso ne guadagnerebbe tutto il sistema ne guadagnerebbe il paese italia ne guadagnerei ovviamente anche io perché faccio questo tipo di lavoro per cui è ovvio che diciamo ne guadagnerei però non è solamente un discorso prodomo me un discorso generale un discorso che riguarda tutta la comunità lo sappiamo tutti la burocrazia uccide il paese ecco perché poi la gente le aziende estere faticano a venire in italia e investire perché se devo venire a investire per mettere in piedi una società in un paese normale ci mettono due giorni da noi ci mettono sei mesi e quindi è evidente il tipo di problema vabbè dopo questo sfogo personal direi che per anche per questo aspetto diciamo burocratico che contraddistingue il settore delle preparazioni sportive direi è tutto scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e io vi risponderò come ho sempre fatto con tutti quelli che mi iscrivono quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e soprattutto vi chiediamo la cortesia di iscrivervi al canale per cercare di farci crescere perché per noi è molto importante che questo canale cresca abbiamo già avuto degli ottimi risultati vogliamo non ci accontentiamo vogliamo che cresca ancora di più a voi costa nulla cliccare sul sul tasto iscriviti in maniera tale che riceverete sempre tutte le notifiche di tutto quello che noi andiamo a elencare sia a livello di documentazioni diciamo tecniche come in questo caso una trasmissione diciamo tecnica che riguardano un determinato tipo di argomento sia lavori che noi svolgiamo direttamente sulle macchine per il momento è tutto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti